Salve, sono Roberto Giacchetti, ho 51 anni, due figli, sono di Roma, sono deputato uscente del Partito Democratico e mi ricandido per le primarie dei parlamentari per la prossima legislatura. Ho fatto il segretario d'aula del gruppo del Partito Democratico, grazie a questo probabilmente qualcuno ha avuto modo di conoscermi per le mille battaglie che ho cercato di mettere in campo per contrastare il governo Berlusconi. Qualcuno probabilmente ha avuto modo di conoscermi magari per la mia battaglia contro i doppi incarichi, i doppi stipendi dei magistrati o più di recente per il mio sciopero della fama di 123 giorni per cercare di cambiare questa legge elettorale. Due obiettivi, uno di restituire dignità e credibilità alla politica e quello di restituire soprattutto agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Non ce l'ho fatto, ho dovuto interrompere dopo 123 giorni perché stavo molto male e comunque la legge elettorale come avete visto è rimasta questa. Rimangono certamente i tanti apprezzamenti ricevuti a cominciare da quello del Capo dello Stato ma col porcellum andiamo a votare. Allora ha fatto bene il Partito Democratico a mettere in campo questa forma per legittimare comunque i propri rappresentanti futuri. E allora io sono qui proprio per questo, per chiedervi una mano. Non ho santi protettori né pacchetti di voti, ce ne vorranno migliaia per essere inseriti nelle liste del Partito Democratico. Davvero per me è fondamentale che ciascuno di voi che magari nel corso del tempo mi avete detto ci vorrebbero più persone come te in Parlamento, adesso sentano veramente come un'urgenza e come un'esigenza quella di fare qualcosa perché questo possa accadere. Prendete il telefono, chiamate, mandate mail, sms ovvero condividete questo video che è un chiaro appello elettorale perché se io ce la faccio ad entrare nelle liste per la prossima legislatura davvero moltissimo dipende da voi e da quanto ciascuno di voi ritiene utile che io sia in Parlamento alla prossima legislatura. Comunque vi ringrazio moltissimo e vi chiedo davvero di darmi una mano. Grazie.